Snack bar, fast food, pasticceria, tabaccheria, ricevitoria, edicola, sala biliardi. Il tutto in un ambiente giovane e dinamico. Barri Trovo Dogana, per iniziare la tua giornata con una fantastica colazione con la nuova pasticceria. Nella pausa pranzo e la sera per gustare specialità fast food, panini, tramezzini, hamburger, hot dog, kebab e patatine fritte. E per i tuoi momenti di svago in compagnia, il Barri Trovo Dogana è dotato di sala biliardi e maxi tv al plasma. Barri Trovo Dogana, via 3 settembre 123, Dogana, Repubblica di San Marino. Barri Trovo Dogana, via 3 settembre 123, Dogana, Repubblica di San Marino.